Buongiorno a tutti, oggi vi accolgo nella mia casa che per l'occasione diventa Casa Carrara. Il quadro di cui vi voglio parlare è un ritratto conservato nella prima sala del museo, si tratta del ritratto di Lionello d'Este per mano di Pisanello. Questo quadro è un quadro che parla d'amore, ce lo dicono le rose, il nodo d'amore appena sotto la spalla di Lionello d'Este, ma ci parla anche di distanza. Eh sì, perché Lionello d'Este aveva fatto realizzare questo quadro a due pittori, creando una gara tra i due, il quadro che ha vinto questa singolar tenzone è stato inviato alla sua amata, il quadro che ha perso è finito nelle sue collezioni. È consolante, il quadro che abbiamo davanti agli occhi in realtà la gara l'aveva persa, eppure oggi siamo ancora qua ad ammirarlo. Quindi è un quadro che ci parla tutto sommato di una grande speranza, la speranza che portiamo tutti nel cuore.